Amici di Fano TV, buon pomeriggio di nuovo dallo stadio Mancini di Fano, Alma Juventus Fano in maglia bianca e Scandicci in maglia rossa. Attenzione, lo Scandicci c'è il calcio di rigore, il calcio di rigore per fallo di Ginestra, Kubilios contro Ginestra, parte Kubilios il tiro, il gol. Fischia Provesi, parte Borrelli, la palla si stampa sul palo. Il travestore di Borrelli, c'è Gucci, il coppio di indietro, goooool, 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 Niccolò. Il fischio finale, il fischio finale, calcio di rigore, finisce uno a uno tra Alma Juventus Fano e Scandicci. Il fischio della direttore di gara, parte Checco Lunardini, il tiro di Luna, il tiro, il gol, 1-0 Fano. Il fischio dell'albito, parte Kubilios, il tiro, e la palla alta, alta! Fischia Provesi, parte Davide, il tiro, il gol, impeccabile Borrelli, Alma 2. Il coro della curva, ancora una volta, Paolo Ginestra, Paolo Ginestra, parte Giannotti, il tiro, il gol. Parte Sartori, il tiro, il gol, Matteo Sartori, 3-1. E quello che combinerà contro Scandicci, parte Mengali, il tiro di Mengali, il tiro, il gol, impeccabile. Alma 3, Scandicci 2, importante questo rigore, parte Nodari, il tiro, il gol, e il gol! L'esultanza di Alex Nodari, il tiro di Della Scala, il tiro, e la traversa, e l'arma di Ventus Fano, a proda, ai quarti di finale, per 4-2.